Musica Musica Manca un'ora all'asta eh Siete pronti? Sì Propositi? Siamo indecisi fra un Amarone della Valpolicella o un Primitivo di Manduria Ho perso Ho perso Con lo Spezia Con lo Spezia Se non te la do a gioco con quella precedente Però la seconda volta scatta Penalizzazione E con la picota troppo forte Sarrago Musica Bravo Chi non mi ha detto che c'è la rega Non sono i primi Prendo a 40 anni E di meno Marco No però Se io muo la prima Alla prima Non ti ho messo Ma non ti ho messo Ma non ti ho capito Ma non ti ho capito Ma non ti ho capito Ugo, Ugo, quello che fanno loro forse è pure me. Ugo, 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 U La questione di Presidente De Vecola è la seguente, quest'anno lo rifà Danilo Guadiotto da me, però è caso che l'anno prossimo Andrea Ciracosa prenda le responsabilità. Chi è d'accordo, atti la mano. Sei diventato grande ormai, bisogna che te prendi le responsabilità. È l'ultimo anno che lo fa Danilo Guadiotto da me, dall'anno prossimo Andrea Ciracosa. Io, io, mi permetto di proporre i tempi che rubavano i cieli, ma i tempi che rubavano i cieli però, no, ma la fine se non fosse per lui noi non faremmo tante cose a questo fare. Questo è vero, questo è vero. Quindi le conseguenze io fanno un po' di carico Massimetto. Bella, l'ultima. Ugo merdale, Ugo merdale, Ugo merdale, Ugo merdale, Ugo merdale. 22-1, 22-2, 23. 23-1, 23-2, 23-3. 23 di Danilo. Chi si è pesa a 23? Danilo. Io, dovresti avere un po' di carico Massimetto. 24-3, 24-2, 23-2. 23-2, 23-2, 24-2, 23-3. 24-3. 27-2, 23-2. 24-3. 25-3. 26-3. 45-3. 25-4. 26-4. 27-4. 6-3. 36-4. 12 e 1 15 e 1 20 e 1 25 e 1 30 e 1 31 e 1 31 e 1 31 e 1 33 e 1